Eccoci qui ragazzi, adesso giochiamo in un... la prima partita, oddio, le impostazioni come... Ah, eccole qui, opzioni, fatemi vedere prima le impostazioni... La prima partita, oddio, le impostazioni... Adesso possiamo riprendere il gioco, ci schieriamo, ce l'ho un compagno di squadra, ok, va bene, vada per lui e corriamo, come si gioca? Che gioco è? Ferma il corriere, ok, ok, dovremo fermare il corriere, wow, la grafica, guardate l'effetto del sole, che spettacolo, ombre, ok, non ci sono ombre, va bene, fa niente Poi... oh, 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 corriere Ok, quello non si può abbattere, non si può, non si può, pensavo di sì e invece no Armi sicuramente hanno qualcosa meglio della mia, quindi... ok, mi avete convinto Oh, promosso, livello 2 Ah, mi sono ammazzato da solo con la granata, ok, ottimo, ottimo Ah, le granate sono molto pericolose, meglio stare attenti, non mi interessa, dov'è il nostro amico? Schieriamoci qui da lui, dai E adesso, da quello che ho capito, ci sono dei nemici qui, sì, e pure più di uno Granata, ma non penso ci sia nessuno lì Ah, ok, nemici, uh, RPG, guardate sti nubboni de merda come giocano, subito con gli RPG Io non so neanche come si sbloccano e loro vanno diretti di RPG, ma vaffan bene Ah, c'ho qualcuno su cui schierarmi, no, mazza, che squadra de merda, come se cambia? Ah, difendi, niente, non si può cambiare squadra, che brutta cosa, vabbè Andiamo, andiamo, così magari riusciamo a imparare anche qualche cosa di nuovo Tasti, salto, zoom Zoom, zoom, così, ok, tasto destro Ok, e dove vanno i nostri, i cattivi? Mi hanno fatto fuori Uh, e se prendessi il fucile da cecchino? Ma, proviamo un po' come il fucile da cecchino Ah, professionista Sì, rinasciamo qui, schierati E vai, andiamo avanti Ferma il corriere Difendi 20 metri, oddio Ah, devono portare qui Eh, allora mi sa che non è stata proprio una grandissima idea quella di prendere il fucile da cecchino Eh, t'ho visto, t'ho visto Ah, ah Colpo alla testa Bam, hatch out Oh Ma chi è stato? Eh, porco giù Dai, dai Tiè, guarda dove sono saliti Eh, spazio Accetta rianimazione Accetta, accetta Stavano sul tetto Quindi, quale tetto? Dove, dove, dove? Lì? Qui? 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 Spara, 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 spara Spara, go, go Oh, wow, wow, wow Mi stanno a colpire Chi è? Chi è? Ne ho visto uno Ne ho visto uno Eccolo Mannaggia, lo sapevo Maledizione Ok Giocare con il cecchino Quando non hai un'arma che uccide in un colpo soltanto Diciamo che non è proprio la miglior cosa Quindi continuiamo così, va Ferma il corriere Corriere, corriere Ok, sta a 120 metri Granata, granata, granata Vai, 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 vai Libero Ok La cassa medica Come si lancia? Oh, perfetto Salute Dove sta la mia salute? La mia salute Boh, non c'è Non ho salute Ok Va bene Facciamo finta Oh, 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 oh Nemici Eh, oh Ma dando cavolo E dai Ti dovevi da sdraiare Che cazzo Tiè Ma è possibile che questi stanno sempre lì sopra sul tetto? Come cavolo c'è se sale? Ma a voi ce penso Io ce penso Vai, cecchino Da qui Sì E Fermiamo il corriere Dove stanno quelli che stanno sempre sul tetto? Dov'è, dov'è, dov'è? È quello? No Lì ci sono Amici Quindi non è quello Ma quale cavolo è il tetto in questione? Non so che cosa sia... Wow Scusatemi ragazzi se parlo poco Ma essendo la prima partita Penso che dovrei prendere Un attimino Un pochetto di... No Ele... Levati Che diamine Devo prendere un pochino di domestichezza con il gioco Quindi non è proprio facile facile come cosa Quindi per adesso provo a prendere un attimo di domestichezza E dopo magari potrò diventare poco più social Però adesso vi dico soltanto che sto giocando a Battlefield Hardline La beta che è disponibile per tutti Quindi se volete potete giocarci anche voi Senza problemi Ve la scaricate da Origin Quindi... Quindi niente Ve la dovete scaricare Dovete lasciare il computer a scaricare per... Uno o due giorni Perché purtroppo occupa un pochino Sono circa 10 GB di download E una volta che scaricate il tutto Sì, se avete un PC abbastanza portante e prestante potete giocarci Perché altrimenti ve lo battete proprio sul petto il videogioco Perché purtroppo è pesante Di una pesantezza allucinante Quindi non per dire cattività Oh, finalmente qualcuno Fermo, fermo, fermo Oh, mannaggia Ah, t'ho visto T'ho visto, non te muove Non te muove E dai Ma chi è, mu? Ah, medikit Ah, eccola la vita 64 In basso A Destra Ferma il corriere Ok Ok Oh, tutti i ticket presi Ok, siamo riusciti a vincere 6 uccisioni e 5 morti Beh, per essere una prima partita Diciamo che siamo riusciti a fare un punteggio in positivo Quindi va benissimo Grado 1, grado 2, grado 3 E vai Terzo livello Siamo riusciti a salire come poliziotti Progressi Ah, sono questi Moneta servatore, professionista Equipaggiamento Ecco Sono saliti leggermente del livello E poi potremo avere dei potenziamenti Penso, come in quelli precedenti Panoramica E no Non la vedremo la panoramica Troppo tardi E adesso probabilmente giocheremo come rapinatori Vediamo, vediamo, vediamo Meccanica assassina Attrezzatura Possiamo cambiare qualcosa? Ah, abbiamo soldi da spendere Quindi se vogliamo giocare come professionista Possiamo Migliorare No Il mirino No Accessori No Neanche Ok Non possiamo fare niente con i crediti che abbiamo E fa niente Dai Giochiamo un po' con l'operatore Adesso, questa volta Vogliamo giocare con questo Mirini No, 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 no Non si può sbloccare Niente Gadget Neanche Ok Giochiamo Si può schierare E schieriamoci Dai E sì Com'è la mappa da questa parte Eo Apri la porta L'avrà contraria Sì Che spettacolo Muori, muori, muori Ah Maledizione T'avevo visto però Comunque, comunque Da quello che ho capito Adesso siamo i rapinatori Dobbiamo mettere Una bella bombetta Sul 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 cavo Nella banca Dopodiché potremo Entrare Granata Nemici, nemici, nemici Dove sono i nostri cari belli amici Amici, nemici, nemici, nemici Oddio Quando uno non conosce le mappe È una cosa Veramente allucinante Ci vuole tantissimo A giocare Tantissimo A fare qualunque cosa Ti uccidono Un miliardo di volte Quello è proprio Sicuro Sicuro Ah Dobbiamo Portare il Pacco A destinazione E sì Se mi dite Che cose Dove devo andare Beh Diciamo che per essere una beta Il gioco non è proprio La Fine Cioè non è proprio Male 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 Ci si riesce a giocare Dai Muori 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 Dai Dai Che diamine Che lo stavo pure aspettando Maledizione Dai Dai Schierati Schierati Tu hai il pacco Ti proteggo Vai 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 Granata Granata Come si lanciano Olè Fatto fuori C'è qui Chi c'è Chi Dove Ah Sta sopra Sta sopra Eh Sì Porcavolo Che lo becchi Ah Da sopra Vuoi vedere Guarda 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 No Stava lì dietro Ah Vabbè 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 Vediamo un po' Allora Ehi Ehi C'è un nemico 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 Ecco È morto Ha fatto un tempo a morire Ehi Ci sono dei cecchini Che stanno Uccidendo I nostri cari Compagni di squadra Uh Eccoli Eccoli Con il 3 Si lancia questo Perfetto Stiamo al sicuro Sì Stiamo molto al sicuro Adesso Quindi Il cecchino Dove sarà Dove Dove È lì Paracadote Ok Andiamo Andiamo Facci vedere Dove si va Che diamine Ragazzi Mi sto perdendo Non so veramente Dove andare Destra Sinistra Sopra Sotto Boom Chi lo sa Ce n'è uno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Porcazzo Non c'è nessuno Ultimo uomo In squadra Ok Che figata Le esplosioni Oh mio dio L'audio Di Battlefield È sempre stato Una cosa Allucinante Diciamo Come diamine Oh Bastardo E dai Col fucile a pompa Che cavolo Oh Non riesco ad uccidere Veramente Nessuno La partita È una merda Ecco Grazie 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 Come se gioca Boh Chi lo sa Cominciamo così Dopo Un paio Di partite Penso Che riusciremo A capire Un pochino Meglio Come Come Si giochi Dai Seguiamo la squadra Dai Seguiamo la squadra Andiamo 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 E qua E andiamo E qua Dai Mi fido di voi Ragazzi Non mi fate andare In qualche Imboscata Troppo silenzio Troppo silenzio Troppo silenzio Troppo silenzio Non mi piace Ecco Lo sapevo io T'ho fatto fuori Nappone Che non sei altro E dai C'è un colpo Alla testa Grado 20 Questo ci gioca Da una vita Sto gioco Ha cominciato a giocarci Già prima Che il gioco uscisse Allora Vai 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 Beh la grafica è bella Però da quello che vedo Ora come ora Sto giocando A rapina Quindi non è Proprio il migliore esempio Da seguire Però Teoricamente Pensavo che Eccolo Sta qui E dai Ma dai Che diamine Ma Non vedo Quanto siano distruttivi Ora come ora Gli edifici Finalmente Posso lanciare Granate Come mi piace a me E dai A dover Piggiare Quella cavolo Di G Era impossibile Qui Cosa c'è Cos'è questo Non ne ho idea Sicuramente Un covo Pieno di nemici E Ma passia Oh No Non mi interessa No 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 Vedi Mannaggia Sono andato a cercare Il pulsante Della granata Mannaggia Oh Diamine Oh L'ho lanciata Però Speriamo di si Finito Abbiamo perso Tre uccisioni E sette morti Veramente Male 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 E ok ragazzi Per oggi Il video Può finire Qui Era un primo video Giocherò In privato Un pochino Per cavole mia E cercherò Di capirci Qualche cosa E quando ci capirò Qualche cosa Vi farò vedere Come vanno Meglio Possibilmente Le cose Alla prossima Bella